Un tabù sfatato e la Coppa Italia per il Picerno sono serviti i calci di rigore al team di Emilio Longo per avere la meglio sul Taranto nel primo turno eliminatorio della competizione riservata ai club di C. Al vantaggio del gruppo di Ezionino Capuano nel primo tempo con Samele ha risposto Diop a metà della seconda frazione. I tempi supplementari non hanno cambiato il punteggio così dagli 11 metri a indirizzare la qualificazione verso Picerno sono stati gli errori dal dischetto di Cianci e De Santis. L'anno scorso i Lucani non erano andati oltre lo scoglio Foggia ora invece a inizio novembre sarà sfida al Catania. Il campionato resta una priorità come spiegato dallo stesso allenatore in vista della trasferta di Crotone. Nel secondo tempo la squadra è migliorata ma era migliorata già nell'ultimo quarto di primo tempo. Ha lavorato, ha dominato, ha cercato di entrare e mentre il primo tempo è assolutamente a vantaggio della del Taranto nel secondo tempo abbiamo realizzato il gol. C'è stata la possibilità del gol di Sant'Arcancelo, grande parata del portiere ospite, c'è stato il tiro a porta vuota di guerra che non inquadra lo specchio, c'è stato il tiro di Esposito e abbiamo invece d'altra parte consentito soltanto sullo sviluppo di una transizione veloce. Contro il Taranto l'obiettivo era dare spazio a chi sin qui era stato meno impiegato. Nota positiva è il rientro di Maiorino mentre a Crotone potrebbero mancare Novella e Albadoro. Abbiamo turnato tutti, quindi undici undicesimi diversi in campo, trovare geometrie, trovare solidità nella manovra, nella capacità di fare gioco non è semplicissimo. C'erano ragazzi alle soldi dal primo minuto, in generale penso a Savarese, penso a Biasol, penso a Cico, penso al rientro di Sant'Arcancelo e tutto ciò ovviamente qualcosa lo devi pagare. Abbiamo sulla sinistra Mattia che si è infortunato credo subito dopo un quarto d'ora e venti minuti. All'uscita, fischio d'inizio domenica 8 ottobre alle 16.15, il Picerno arriverà forte di sette punti conquistati nelle ultime tre partite, stesso bottino complessivo degli avversari. Longo non crede però a un Crotone in crisi. Troveremo una squadra che non ha giocato e quindi sicuramente più fresca. Noi dobbiamo essere bravi a capire in questi due giorni chi sono i calciatori che hanno la migliore condizione e che ci possono far fare una grande partita in quel di Crotone. Grazie.